Si è concluso con la premiazione ai vincitori il contest indetto da Marana Forni dal titolo E tu, cosa cuoci in un forno Marana? Un concorso fotografico corredato di relativa ricetta nel quale pizzaioli e chef hanno fotografato il processo preparatorio, la fase di cottura o il prodotto finito di qualsiasi alimento cotto con l'ausilio di un forno Marana, pizza, pane o altre pietanze. L'insieme del materiale raccolto ha dato luogo alla nascita di un ricettario, che è sostanzialmente una raccolta di ricette classiche e originali provenienti da tutta Italia e non solo, che alla base hanno la cottura in un forno rotante Marana. Ecco, adesso ci sarà una consegna dei ricettari. Ignazio di Marcio Vagna Covai Nadia Torto e Claudio Mancinelli Basile Pulvere Virgilio Berti Massimiliano Trevisi Agelo Petrone Lucullus In arte Lucullus Vittorio Astorino è il prossimo che riceve, anche egli naturalmente, il ricettario Valerio Lucca Torre Attilio Albacchiara, stiamo aspettando che si presenti. Non si presenta. Federico De Silvestre, eccolo che arriva. Grazie a tutti.